no no si ah 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 non avanza ti piace un po' a far qualcosa non ci puoi divertire i propri ah 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 Rai! 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 Che sei ancora lì L'a'cha, guarda, qui mi hanno fatto L'a'cha, la faccia Mi ha fatto No, mi hanno fatto Ooi Le tocco Ma la faccia Ma la faccia Ehi! Ehi! Buona stava staggia. Ieri la tensione. Ehi! 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 Cos'è? Non ha senso. Eeeh! 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 Vai! Eeeh! 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 Esattamente, stai lavorando da dio. Poi, ti mancano le uscite. Avanti, dietro, sul gioco. Ok? Ma hai tempo di combattimento, vedi? Che riesci a lavorare maggiormente, costruendo qualcosa di tuo. Eeeh! Eeeh!